Evasione di un detenuto albanese durante la notte nel carcere di Teramo. Si sospetta l'aiuto di un drone per la consegna di strumenti utili con i quali il detenuto albanese ha messo a segno l'evasione. La scoperta della fuga solo questa mattina a riferirlo è stato Gino Ciampa della FPCGL, Polizia Penitenziaria per l'Abruzzo. In questo momento sono al vaglio le registrazioni di tutte le telecamere del penitenziario di Teramo per cercare di comprendere l'esatta dinamica dell'evasione messa in atto dal detenuto albanese, ristretto per reati comuni che questa notte evaso dal penitenziario. Sulla vicenda è intervenuto anche Mirko Manna della FPCGL Nazionale Polizia Penitenziaria. Se fosse confermata la versione che vede l'utilizzo di un drone per l'evasione di questa notte, ci troveremmo di fronte ancora una volta alla prova evidente del ritardo tecnologico con cui la Polizia Penitenziaria è costretta a lavorare per garantire la sicurezza delle carceri italiane. Il mix devastante di carenza di personale e mancato adeguamento delle tecnologie sta creando un confronto impari tra chi ha commesso reati e la Polizia Penitenziaria. Il ritardo, conclude Manna, non è solo tecnologico ma anche di attenzione da parte del governo che continua a propagandare miglioramenti citando l'acquisto per la Polizia Penitenziaria di Manganelli, scudi e guanti antitaglio, mentre armi, droga e strumenti per evasioni arrivano con i droni.